buongiorno il vangelo di matteo oggi al capitolo 9 dal versetto 18 al 26 ci propone un intreccio di incontri che gesù vive a cominciare da un capo dei giudei che gli si prostra innanzi e chiede che egli possa andare a ridare vita alla figlioletta che è morta e mentre gesù si reca la casa della bambina ecco un'altra donna che ha perdite di sangue da 12 anni segno della vita appunto che se ne va e che lo tocca furtivamente alle spalle sperando che questo possa restituirle salute speranza e anche l'integrazione in una società che margina una donna di questo tipo poi la guarigione e la vita che viene ridonata alla fanciulla la quale ci ricorda anche santa maria goretti che oggi ricordiamo nella liturgia un'altra ragazza che ha preferito perdere questa vita piuttosto che lasciarsi usurpare nella sua purezza nella sua castità da un uomo malvagio storie di donne storie di ragazze che quest'oggi sono accomunate da una vita che se ne va che viene perduta ma anche da un incontro con gesù appunto e che cosa accomuna l'atteggiamento di gesù davanti a queste donne il gesti di gesù i suoi sguardi i suoi tocchi le sue parole sono sempre di consolazione di salvezza egli è la vita che vince la morte e che ridà coraggio speranza e resurrezione a queste figlie amate viene in mente facilmente in questo giorno il volto di tante donne che ancora oggi soffrono e vengono maltrattate e marginate abusate a volte uccise di tutte le donne che ancora non hanno il proprio ruolo nella società il ruolo che si meritano per la dignità meravigliosa per la bellezza che sono per il solo fatto di essere donne a loro stesse gesù volge lo stesso sguardo amorevole e con il tocco di salvezza le riporta alla propria dignità invitando anche noi a fare altrettanto che ogni donna riscopra oggi la sua dignità la propria bellezza la meraviglia di essere amate personalmente da gesù e dal padre e che ogni uomo si faccia carico di aiutare le donne ad essere come sono veramente un meraviglioso dono un meraviglioso prodigio nella propria vita per il bene personale e di tutta l'umanità buona giornata a voi donne e a tutti gli uomini